I decreti varati dal governo Monti, che prevedono l'esclusione di quasi tutte le regioni del sud dallo sblocco di risorse per pagare i crediti che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni, rischia di dare il colpo di grazia definitivo alle aziende meridionali. Al sud stiamo ricevendo sempre amare sorprese, ha commentato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il primo cittadino esprime l'augurio che per l'Italia vengono fatte scelte importanti perché il momento è delicato e conclude, noi non vogliamo e non chiediamo assistenzialismo, ma chiediamo equità, lavoro e crescita. Il commissario regionale e il commissario vicario del PDL, Francesco Nitto Palme e l'onorevole Mario Landolfi, sono intervenuti sull'argomento e si dicono convintamente al fianco di Caldoro, condividendo le critiche mosse dal Presidente al decreto compensazione. E mentre c'è chi, come Danna, Popolo e Territorio, chiede che i parlamentari campani si dimettono in polemica, la Federazione delle Sinistre sottolinea la gravità dell'esclusione della campagna dalle compensazioni. Grazie.